Le fiamme sono divampate nella notte tra sabato e domenica nella ditta Idrobase Group in via Manzoni a Borgo Rico specializzata nella produzione di macchine e accessori per il mercato dell'acqua in pressione. I pompieri arrivati da Padova e Cittadella con tre autopompe, due autobotti, un'autoscala, il carro aria e venti operatori sono riusciti a limitare le fiamme a circa 500 metri quadri dello stabile evitando così un incendio generalizzato. Tuttavia il rogo ha provocato danni ingenti rendendo inagibile il capannone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per capire insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo.